Grazie a tutti Ovviamente ci arriverò facendo compravendita, vi farò vedere ogni fase, ogni, diciamo, ogni mio guadagno E allora, in questo video, adesso state vedendo i giocatori che ho comprato, non fate caso a quelli non horrorari Che erano appunto quelli dello scorso video per come fare la compravendita, quindi state tranqu, cioè, non contateli Allora, in questo video, nella prima parte farò vedere appunto due fasi della mia compravendita Vi dico subito che cambierò modalità di video perché al posto di, ad esempio, aspettare sempre che riesca a comprare i giocatori con tutti quei crediti E poi rivenderli, utilizzerò un altro metodo che appunto adesso non vi dico però lo vedrete nel prossimo video, nell'episodio di UdiRot Cristiano Ronaldo Allora, queste serie di video spero che vi servano anche a voi perché, ad esempio, io vi posso direzionare, si può dire così, su alcuni giocatori E appunto di comprarli, quindi spero che serva anche a voi Allora, qua avevo trovato un Bent, prezzo compra ora a 900 Stessa cosa per un Muriel A 1900, Muriel è un giocatore che è abbastanza pagato, dell'Udinese Avevo trovato, infatti nella prima fase ho avuto una fortuna potente a pala Perché, appunto, ho trovato un Muriel, comprora a 1900 e un Bent, comprora a 900 Poi ho comprato dei giocatori della Barclays Argento A 500 e li rivendevo tipo a 1500 Qua avevo preso un altro Muriel, un Carlos Eduardo, giocatore della Liga Rossa Da cui non so se avete notato anche voi, hanno cambiato il nome Vi dico, anzi, vi ringrazio subito per i mi piace, gli iscritti, i mi piace messi nell'ultimo video E la gente che si sta iscrivendo al mio canale, vi ringrazio veramente tanto in un modo potente Ma proprio a pala, quindi una roba potente E poi utilizzavo anche Pepe Reina, un altro compradorato di Pepe Reina 4300, perché erano ancora i primi giorni, quindi c'erano i deficienti Però li vendevo anche a 11.000, ora costa anche 15.000, quindi ci potevo ancora guadagnare Poi, un Caballet preso a 1100 con un'asta 4-5-1 Caballet è, credo sia uno dei giocatori non rari, non oro rari, della Barclays più forte Perché, boh, mi sembra che abbia un buon passaggio, un buon dribbling, una buona velocità Diciamo, a tutto sul 75, mi sembra una roba abbastanza potente per un giocatore non oro rarato, se si può dire così Allora, poi qua stavo cercando un attimo un giocatore, perché non mi ricordavo il prezzo di Caballet Quindi, boh, sono andato a vederlo Poi, qua, vedete, i primi giorni dava ancora problemi, il sito dell'Ultimate Team Una cosa abbastanza poco potente E neanche a pala, quindi Eh, come vedete qua me lo continuavo a dare, non riuscivo a trovarlo Però, ehm... Ecco, ho deciso di chiamare questa sede, appunto, Cristiano Ronaldo Perché mi avete consigliato questo giocatore E mi piaceva anche molto Vi faccio vedere che subito dopo due minuti Avevo già venduto The Muriel e un altro E qua Rafferso Beast non c'entra nulla, infatti lo rimando sul Tor Club Qua vedete i giocatori che ho venduto, che ovviamente sono sempre tutti Magari non ce ne erano due o tre E sono riusciti anche a vendere quelli di bronzo, di argento, scusate Comprati verso 600, li ho rivenduti 1500, 1200 e una cosa così Allora, poi, non so... Se non noterete, utilizzerò molti i giocatori della Serie A in questo episodio Infatti, nella prossima fase, che vedrete a momenti Utilizzerò molti i giocatori Allora, parlando di giocatori da utilizzare, come avevo già detto Non vi consiglio personalmente di usare questi Perché magari o li uso io o li uso a qualcun altro Dovete trovare un vostro giocatore Io vi posso dire, cercate magari di trovarne uno Che usano in molti Di una liga particolare Che però, appunto, deve fare tanta gente Vi consiglierei anche, tipo, quelli brasiliani Rafferso Bistro, Naldigno, così Perché, appunto, ora, dato che è ancora inizio In molti li udiano Non so se c'entri molto questo ragionamento Poi, con i soldi... Poi avevo comprato anche un'insegna con quei soldi Perché mi sembrava una buona offerta 1800 E... basta Questo qua non so perché ce l'avevo lì Ok Adesso non so cosa sto facendo Ah, non ero riuscito a farvi vedere un Muriel Non so perché i Muriel mi si cancellano Se si può dire così dalla fila a scambio Infatti ci sarà un problema anche nella seconda fase Quindi... Un po' mi sembra una cosa... Abbastanza potente E poi anche il Band Che però... Ah no, ma forse perché ve li avevo già fatti vedere all'inizio E quindi li avevo cancellati Comunque qua li sto dotolineando con la... Con il... Con la freccia Che si può dire così E poi volevo dire che... Se questa serie vi piace adesso Mentre sto continuando ad andare avanti un po' il video E se mettete un mi piace Ovviamente commentate Perché una cosa che mi fa molto piacere Sono i commenti Quindi commentate il più possibile Allora qua... Ecco qua la seconda fase Avevo comprato dei vari ag... Agbolla... No, agbolla or... Adebayor Poi qua state vedendo che ho preso il terzino d'est dell'Inter Jonathan o John Boone mi ricordo Poi Nagatomo Nagatomo, oh my god Poi un altro giocatore è Joan Moutinho Del Porto Un centrocampista centrale Ma abbastanza po' forte E poi Adebayor della Baric Adesso ho preso uno con un modulo poco usato 4222 Preso con un'asta normale E l'altro con il 41212 Poi parlando un attimo della storia per le palate Vi volevo dire che... Ho avuto dei piccoli problemi Infatti mi sa che farò un episodio rassuntivo Perché... Diciamo... Ho fatto un... Mi si continuano a cancellare episodi cose così Quindi... Boh magari faccio un episodio rassuntivo E vi faccio vedere dove sono arrivato adesso Allora poi ho comprato anche Pereira Pereira è sempre un altro terzino dell'Inter E... E come giocatore della Barclays Si può dire così Un portiere del portiere De Gea del Manchester United Perché non so se vi ricordate L'avevo trovato nei pacchetti E mi è sembrato un buon giocatore Per cui farci la compravinta Poi... Magari nel prossimo video Vi farò vedere dei giocatori Che conoscono pochi Ma che sono molto utilizzati Se si può dire così Allora qua vedete Un altro muri Quindi boh Scrivetelo nei commenti Ritornando al... All'argomento Tassato All'argomento futuro E... Vi volevo dire appunto Di lasciare un commento Perché i commenti mi fanno veramente piacere Oltre anche a mi piace Siete veramente potenti Raga Appala E quindi così Poi oltre a Jonathan Ho comprato sempre i soliti giocatori D'argento rari Della... Giocatori d'argento rari Uno l'ho comprato a 500 Non mi ricordo Ho venduto a 2000 Così così E poi questi qua Argento non rari però Che sono riuscito sempre a vendere E... Questa vedendo che a Pionario Messi Avevo già venduto due giocatori Questo qua È l'ultima fase La fase... Ecco qua Un fail epico Che non so perché Mentre stavo registrando Avevo appena fatto partire La registrazione Mi ha dato l'errore Quindi Zono dovuto Riuscire Rientrare E poi Boh Una roba abbastanza Una roba potente Appala E quindi boh Qua ve lo ucciso un attimo State vedendo che Appunto sono riuscito a vendere Tutti i giocatori Magari alcuni Li ho abbastati di prezzo Come Muriel Non capisco perché Veramente da un giorno all'altro Muriel Tipo Ieri Costava 7000 7500 Oggi Invece 6500 6000 Cioè è una roba assurda E infatti si vede ancora Che siamo all'inizio Perché i prezzi Non possono variare così tanto Allora Adesso non so se lascio Perché dovrei andare a studiare Poi c'ho gli allenamenti Vi faccio Un attimo Ho reso conto Ecco volevo anche dire Mi scuso per essere partito Già così avanti Ma E Sono partito per due motivi Allora uno Era anche un po' più facile per me Tanto per arrivare Stano andando Ce ne vuole di tempo E il secondo È perché vi ho detto all'incirca Come fare Facilmente Magari anche Pochi però in un modo veloce Crediti Quindi basta che utilizzate Un 3 o 4 giorni quel metodo Siete già a buon punto E poi appunto Potete prendere spunto Da questi giocatori Oppure utilizzarli anche voi Anche se È una cosa che non vi consiglio Però boh Fate come volete E Ecco qua ragazzi Mi sembra che abbia detto tutto Sono arrivato a 72000 crediti Mi ripeto Scusate Sono partito così avanti E Detto questo Io vi posso anche salutare E vi dico Potente appare ragazzi Ci sentiamo Al prossimo video Che boh Credo sia Strada per le palate E quindi Boh Bolla Strada per le palate 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 Strada per le palate